La chiesa madre di Castiglione d'Otranto risale al XVII secolo, anche se non si conosce esattamente la data di costruzione né quella della sua consacrazione. La matrice chiesa fu costruita e dedicata a San Michele Arcangelo, principe degli angeli e uno dei santi più venerati nel Salento bizantino. Il frontone della chiesa è molto rigoroso, seppur in armonia con il contesto dove è immersa. La chiesa è ad unica navata centrale, in sobrio stile barocco. Una volta all'interno si può subito ammirare il pregevole pavimento musivo a rombi bianchi e rosa. Esso fu realizzato nel 1871 e si sviluppa dall'entrata fino alla sagrestia. L'altare principale è in pietra leccese, arricchito da pregiate decorazioni e da un croce fisso. La chiesa custodisce statue, tele e ovali di pregevole fattura che la rendono un gioiello assolutamente da visitare. A presto! 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 Grazie.